Salta al fotofinish l'accordo fra Lega e Direzione Italia in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Direzione Italia infatti si alleerà con Fratelli d'Italia come già stabilito a livello nazionale. La Lega in mattinata ha organizzato una conferenza stampa presso la sede di Via Luigi Guercio in cui ha annunciato la presentazione di una lista alle elezioni provinciali. Un'occasione anche per parlare della bomba carta lanciata contro la sede del partito a San Valentino Torio. Ma è una cosa che sta avvenendo a livello nazionale non solo in provincia di Salerno. Abbiamo visto nelle inaugurazioni delle nostre sedi e nelle manifestazioni alle quali partecipa Matteo Salvini una banda di giovanotti in Rolex che fanno la rivoluzione stando con le carte di credito di papà e Rolex pensano di voler fare la rivoluzione. Noi continuiamo ad andare avanti, non ci facciamo intimorire, non ci lasciamo intimidire. Noi abbiamo il coraggio delle nostre azioni e soprattutto abbiamo una cosa importante. abbiamo il popolo dalla nostra parte, lo dimostrano i sondaggi, lo dimostrano le accoglienze che riceve Matteo Salvini quotidianamente e che gli uomini della Lega riescono a riscontrare sui territori. Gambino è uomo di partito. Io capisco i problemi che gli sono stati creati dai vertici nazionali di Direzione Italia perché anche io sono uomo di partito. Alberico con Alberico, con cui mi legano rapporti di amicizia, stima, sia umani sia politici, ha fatto una scelta, una scelta che sul territorio sarà poi valutata. Ciò non rispetto, ripeto, alla sua decisione che è stata imposta dai vertici nazionali. Poiché io sono uomo di partito capisco che c'è bisogno di qualche volta di saper fare dei passi indietro affinché si rispettino quelli che sono gli accordi nazionali. Vedremo nel futuro quali saranno le sintesi che andranno fatte sul territorio. La Lega vuole giocare un ruolo importante in questo percorso per le provinciali e per le prossime amministrative. Noi abbiamo già annunciato, abbiamo preparato e deciso di presentare la lista della Lega. È una lista che vuole essere competitiva, vuole portare novità sul territorio sia per quanto riguarda le proposte politiche sia per quanto riguarda le novità a livello amministrativo. Siamo pronti a fare questa battaglia. Siamo sicuri che gli amministratori della provincia di Salerno sapranno vedere in quello che è il programma e in quelli che sono gli uomini della Lega dei riferimenti importanti. È una battaglia, ripeto, che ci faremo come il nostro costume, con coraggio, con determinazione e mettendoci la faccia quotidianamente.